Ieri manifestazione a Pesaro. Un migliaio di persone a Pesaro si sono presentate in piazzaria della libertà in zona mare per manifestare contro il Green Pass e contro la violazione delle libertà personali. Manifestazione di un'ora e mezza, dalle 20 alle 21.30 assolutamente pacifica, da lì finisce la manifestazione e un centinaio di noi iniziamo a fare un corteo spontaneo, assolutamente pacifico per le vie del centro storico della città. eravamo 100-200, soprattutto mamme, bambini, famiglie e nonni, cittadini insomma liberi. Iniziamo a fare questo corteo, la municipale, la polizia locale ci dà l'ok e dicono vediamo con voi, siamo entro 4, vi scortiamo, tanto siete assolutamente pacifici, fate quello che dovete fare, non c'è nessun problema. Iniziamo il corteo per le vie della città, urlando libertà, libertà, no Green Pass, no Green Pass. Questo corteo ci ritroviamo nel corso di Pesaro, in quella via abita il sindaco Ricci, quindi diciamo ragazzi fermiamoci e facciamo sentire al sindaco il nostro dissenso, la nostra manifestazione. Ci fermiamo 3 minuti ragazzi, 3 minuti sotto casa del sindaco urlando libertà, libertà, no Green Pass, no Green Pass, libertà, no Green Pass. Con la municipale lì che guarda perché non c'è nessun problema e poi ripartiamo a fare il nostro corteo per le vie della città. Ripeto, assolutamente, assolutamente pacifico. Torno a casa, accendo rete 4 e vedo il sindaco di Pesaro Matteo Ricci che dice Un gruppo di squadristi ha assaltato la mia casa, ha citofonato, c'erano i miei figli spaventati, sono quelli di io apro, sono degli squadristi, incredibile, è una cosa che non si fa, sono scioccato. Ma di cosa stiamo parlando? Una manipolazione della realtà clamorosa. Una manipolazione della realtà clamorosa solo per propaganda, per prendere like, per prendere messaggi di cordoglio, ma quali messaggi? Abbiamo manifestato in tutta la città e siamo passati manifestando davanti a casa del sindaco che abita in pieno centro nel corso, ci siamo fermati e abbiamo detto no Green Pass, libertà. Siamo passati sotto casa di migliaia di cittadini di Pesaro, allora caro sindaco quello che ti chiedo, metti un divieto di manifestazione in capeso, divieto di qualsivoglia manifestazione. Divieto di dire al contrario di come la penso io, ma non passare da vittima, non passare da martire. Per fortuna ci sono i video, per fortuna ci sono centinaia di persone e per fortuna verrà a galla questa clamorosa, clamorosa manipolazione della realtà. Clamorosa.